Prego, a questo punto diciamo ha aspetti più positivi o più negativi? Guarda, un punto che mi prendo vedendo soprattutto per come è andato dopo, diciamo che secondo me è stato Ravenna due facciate, per quanto riguarda il primo tempo, un primo tempo dove siamo stati comunque attentissimi, un secondo tempo dove probabilmente siamo anche un po' casamai calato fisicamente, giustamente il Fano doveva vincere, quindi ha spento un po' di più e magari purtroppo per una sorta di disattenzione diciamo così abbiamo preso gol e poi dopo il secondo tempo abbiamo visto tutti che abbiamo fatto un po' fatica, vedendo anche il loro palo, scusami, è un punto che mi prendo ben volentieri in trasferta ma la cosa che mi interessava era fare punti, sicuramente, sapevamo che comunque questo era un campo difficile, secondo me sarà difficile per chiunque verrà. Ok, che cos'è che ti è piaciuto di più, che cos'è che ti è piaciuto di meno? Ma guarda, il primo tempo, ti dico la verità, l'attenzione del primo tempo mi è piaciuta veramente tantissimo, secondo me questo qui è lo spirito che cosomai non dobbiamo tenere per un tempo ma magari per tutta la gara. Cosa mi è piaciuto di meno? Di meno diciamo che l'altra facciata siamo un po' calati nel secondo tempo perché si è evidenziato ed è una cosa che purtroppo non ci dobbiamo concedere comunque sia perché poi dopo vedi che alla prima, purtroppo, alla prima boh chiamiamola oh disattenzione e così vieni in questa categoria vieni comunque punito, quindi è una cosa che non ci possiamo concedere. Ecco, secondo te questo calo è un problema di attenzione come è il scenario adesso o è anche un problema, diciamo, oggettivo? Ma guarda, sinceramente adesso questa cosa non lo so, nel senso che analizzeremo comunque martedì quando faremo la partita, l'unica cosa che possiamo dire è che sia fisico, che sia mentale, è un qualcosa su cui a questo punto in prospettiva di chiave futura dobbiamo assolutamente migliorare, vedendo anche comunque casomai quello che si è successo anche nelle altre gare, però io comunque quello che voglio dire è che comunque se ci prendiamo questo punto in trasferta che per come era partito comunque il nostro rondamento attuale me lo prendo tutto, diciamo.